Un cordiale buon pomeriggio si inizia con un anziani sul miglio cavalli affidati agli allievi. Saluto Pierfrancesco e Fabrizio dallo studio centrale con me Emilio Migliaccio come al solito essenziale e fondamentale. Corsa molto aperta ma ora sciva ferme la sartile a me l'hanno molti sostenitori. Problemi per Tabada Griff numero 5. Via la macchina. A largo di tutti proprio la sciva ferme impegna a fondo Steven Griff per il comando poi Tettuc e la sciva scende lungo i birilli. Al completamento del lancio che se ne va in 14.6 Tettuc viene a chiedere strada con Amitrano. Si va al completamento della piegata e anche del quarto iniziale. Quarto iniziale che se ne va in 31.5 e Tettuc sopravanza l'avversario. Cavalli al completamento dei 600. Tettuc sta passando dopo 600 metri in 45.5. Si viaggia da 1.16 meno qualcosa. Tettuc sciva ferme. Steven Griff. Così si va impiegata al completamento del mezzo miglio iniziale. gettonati in 1.1 meno qualcosa. L'1 a tabellone. Si va di fronte per linea esterna la risalita di Sayonara. Il chilometro nell'ordine del 15.9 e 15.1 di frazione. Tettuc sciva ferme. Steven Sayonara. E il libeccio Griff di Amitrano al comando ma viene via sciva con azione superiore redditizia. Passa sullo slancio l'allieva di Salvatore Mele. Prende vantaggio ed è in fuga per la vittoria. Non sbaglia nulla questo giovane Mele. E indirittura si fa notare soprattutto per la sua guidata poiché è un counter si può dire. Tettuc e Steven Griff seguono una sciva ferme che appartiene a un'altra categoria. Due minuti e un po' di spiccioli. 2.49 in chiusura. Veramente devastante questa sciva ferme. Frusta alzata. 30 metri quasi di vantaggio. Su un ottimo però Tettuc e Steven Griff. 8.7.3. Chiacchiericcia il probabile e ufficioso arrivo della prima. È tutto per il momento. Restituisco la linea alla regia. Sciva ferme. Easy easy easy. Migliano studio.